Siamo finalmente al Tempio di Antas. Ecco, qui c'è tutta la mappa. Ecco cosa che si vede qua. È la valle del Tempio di Antas. Stiamo camminando e in un certo momento appare il Tempio. Ecco la chiesa. Interessante. Ecco Lisetta che si approssima al Tempio. Lisetta è il Tempio. Lisetta entra nel Tempio. Però... ...che ci si appresta a visitare ricopre un ruolo fondamentale per la storia del Fluminese non solo. L'area abitata prima in periodo nuragico attirò l'interesse dei cartaginesi e successivamente dei romani per la ricchezza dei giacimenti di piombo e ferro. In un lasso di tempo che va dal bronzo finale 1200-900. Ecco. Il paesaggio attorno è veramente molto interessante. Sacro si potrebbe dire, anzi lo dice la Guida. E' andato il sole di nuovo. Tutto una zona colinare bella. ... ... ... ... Qui siamo in un villaggio nuragico. Direi che ne è rimasto ben poco. tranne un abitante d'epoca. La quale guardava il Tempio e mangiava i perastri. ... Ecco qui. Ciao nuragica. Come va la... Donna nuragica sempre piaciuta. Donna nuragica. Eccomi. Una voglia di arrosto da giorni. Però questi non ce li danno. Almeno qui lo vediamo. Mamma che buona deve essere. Amm. Qui si mangia l'agnellone. Un viaggio lungo la costa. Spiaggia. Porti Segdu. Più in là San Nicolò. Poi si vede tutta una baia notevole. Una delle grandi spiagge. Porti Segdu che si vede tutta una parte di Ponte. Porti Segdu. Porti Segdu. Dottora? Porti Segdu. Ponte Segdu. Grazie a tutti. 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 Sbucando dall'altra parte della galleria cosa si vede? E' un altro mondo ragazzi. Un'altra spiacetta bellissima. Adesso capisco perché piace tanto. bella. Musica. 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 Cosa vedo? Ancora quella. Le rocce sotto continuano e in un certo momento finiscono in una bellissima spiaggia. Le belle calette, come dice Lisetta, dove la vista dominante è sempre quella rocciona lì. I camminamenti, sembra essere uno dei film western di John Ford, che corrono gli indiani in mezzo alle rocce. Se uno guarda queste rocce nella direzione opposta, vede che non ha mica finito il mondo. Anzi, il mondo verso il sud continua in direzione Sant'Antioco. Ecco che piccola insernatura è un'altra qua. Questo deve essere Porto di Nebida, Porto Paglia, in fondo. Ora che gireremo tutto attorno, stiamo andando verso Tortoli. Ecco c'è il suo ponte, sicuramente. E poi girando sopra questo, è carino, di là c'è un paesino. Ecco il lago, adesso siamo sopra. Un bellissimo paesaggio tutto collinare. E fortunatamente il tempo si è messo bene. Ma quel che è straordinario è che qui sotto c'è la galleria del treno. Il treno verde. Siamo sempre sopra quel lago. Ormai dalla parte opposta. Qui c'è questo ciaspuglio che copre la vista, ma subito dopo si riapre ancora. Con tanto di ponte, è vero? È un bel paesaggio. Ci sono delle pietre molto strane qui. Lucide. Questo è ancora più strano. Abbandonato il lago con la sua lussurosa vegetazione, entriamo in una zona del tutto diversa. Qui abbiamo una specie di burrone, una roccia e un paesino dietro. Dopo passiamo accanto a Gairo, villaggio abbandonato negli anni 50 per le piogge esistenti. Proseguendo, da una sommità vediamo apparire il mare e Santa Maria Navarese che ci aspetta. Grazie a tutti.